Bentornati ragazzuoli, sapete già dove ci troviamo su LVGA TV, bentornati di nuovo Allora, breve video informativo molto importante Di cosa parliamo? Parliamo della frequenza con cui vengono caricati i video sul canale Parliamo di Patreon, parliamo degli animi in corso e parliamo degli abbonamenti su YouTube Allora, in breve Frequenza video caricati Diciamo che c'è stata un po' di difficoltà ultimamente perché soprattutto il sottoscritto non pensava Parlo di me in terza persona Non pensavo che sarebbe stato così difficile caricare spesso durante la settimana pur lavorando al 100% Ma mi sono reso conto che è veramente tosta, veramente tosta Infatti come vedete il ritmo è un po' calato anche ultimamente perché dopo un po' una persona non ce la fa più Dopo un po' esplodi Praticamente ragazzi questa settimana non verranno caricate reaction E mi dispiace perché comunque vedo che quando carichiamo la risposta è positiva e ci sta E ne siamo molto felici Adesso dobbiamo trovare un nostro equilibrio diciamo E l'obiettivo principalmente è caricare almeno 3 video a settimana Adesso stiamo vedendo come fare perché abbiamo 3 anime in corso Abbiamo Dragon Ball Z, come sapete, Jojo e One Piece Stiamo vedendo come fare perché sono 3 anime molto lunghi andando avanti così andremo avanti all'infinito Finiremo forse in 5 anni se tutto va bene Perciò adesso stiamo pensando come fare Comunque il progetto è di fare 3 video a settimana Questo è quanto Da settimana prossima Ci mettiamo sotto Soprattutto io ovviamente Sono io che edito però Stiamo cercando di vedere con la K Se riesce a iniziare a editare un po' anche lei Vediamo se ce la facciamo E niente perciò abbiate solo un po' di pazienza per questo ragazzi Arriverà, arriverà Non molliamo Seconda cosa Patreon Allora Patreon Che dire In breve Ci abbiamo provato Io mi ero informato Mi sono informato un po' sui canali americani Un po' i canali perché in Italia c'è poco come reaction E ho visto che appunto loro Utilizzavano molto questo Patreon Per cercare anche un sostegno da parte dei viewers Delle persone che seguono il canale Perché non è male Nel senso Se qualcuno vuole sostenere il canale Gli piace così tanto il canale Da volerlo sostenere o dare una mano Farne parte ancora di più Appunto c'era questa soluzione di Patreon Dove si sosteneva il progetto In cambio venivano date Dei contenuti in più O magari addirittura esclusivi Non è andata Probabilmente In Italia Magari non va tanto Patreon Non lo so Forse probabilmente è questo Probabilmente in America C'è in America Nel senso All'estero sono più abituati a usarlo Oppure l'abbiamo gestita male Può essere anche che abbiamo sbagliato noi Comunque ci abbiamo provato Patreon verrà utilizzato molto meno Caricheremo Non caricheremo più praticamente nulla su Patreon Solo Dragon Ball Z Integrale Perciò Traverete Per chi volesse Gli episodi di Dragon Ball Z Interi Integrali Senza il filtro Perciò c'è l'episodio Bello pulito Tac Chi volesse Ragazzi Trovate il link di sotto Se volete Abbiamo anche abbassato Il costo dell'abbonamento 4 mi pare 5 Prima era 7 8 Perciò chi volesse Vedete voi A noi Fa sempre piacere E apprezziamo Tantissimo Patreon non è andato Però comunque Archiviato il discorso Patreon Cerchiamo di introdurre Il discorso degli Abbonamenti su YouTube Che magari Questo è un altro motivo Per cui Patreon non è andato Perché tanta gente Magari pesava Il fatto di cambiare piattaforma Creare un nuovo account Su un'altra piattaforma Il che ci sta Comunque capisco Perché da una parte Anch'io penserei Non ho voglia Cioè Va bene Ok Interessante Ma non ho voglia Di creare un nuovo account Un po' dispendioso Posso capire Difatti proveremo A vedere Con questo discorso Gli abbonamenti su YouTube I caricamenti Verranno fatti Come detto Tre alla settimana E poi Ci sarà questa possibilità Per chi vuole Per chi non riesce A attendere Che escano I video settimanali Chi vuole Può fare l'abbonamento E avrà l'accesso ai video Con una settimana di anticipo Lo stesso discorso Di Patreon Però sarà fatto su YouTube La cosa bella È che qui si può Vedere I video che sono usciti I video disponibili Per gli abbonati E quelli disponibili Per i normali viewers E iscritti Questi ragazzi Sono Gli aggiornamenti Come detto Cercheremo di caricare Più spesso Non è facile Cercate di avere pazienza Abbiamo oltretutto Abbiamo anche un altro canale Che anche se carichiamo Una volta ogni morte di papa Che è quello del gaming Come sapete Però comunque È dispendioso Quando facciamo la live Comunque è da editare La live La live è lunga Una barra due ore Capite che va via Una serata E il giorno dopo Praticamente lavori Ti puoi sparare Perché non ti sei neanche goduto La serata È difficile raga È difficile Ringraziamo Ovviamente Sia io che la cappa Dal profondo Del nostro Cuore Fegato Esofago Tutto Per la pazienza Che comunque avete Nel seguirci Comunque nell'affetto E per l'affetto Scusate Italiano marcio Che comunque ci dimostrate Nonostante Carichiamo Veramente poco Rispetto A quanto Bisognerebbe caricare Ma noi lo sappiamo E cercheremo di Metterci sulla Strada giusta Quella della Com'è quella parola? Costanza Quella della Costanza Ce la faremo Ditemi per favore Cosa ne pensate Di questa idea Sotto nei commenti Fatemi sapere la vostra E avevo pensato Quasi quasi Di fare qualche live Anche su questo canale Così di gaming Di cazzeggio Io la capo Così vediamo Magari anche Se qualcun altro Vuole partecipare Qualche altro Membro del gruppo E appunto Commentate Fatemi sapere la vostra E ditemi Se c'è qualcosa Che non vi piace Cosa invece Apprezzate E mi raccomando Fateci sapere Che apprezziamo Le critiche E questo è quanto Ragazzi Che dire Breve ma intenso Lasciate un bel like Come sempre Iscrivetevi Se non l'avete fatto E ci vediamo Al prossimo video Che sarà sempre qua Su LVGA TV Ciao ragazzi